che stai facendo? che stai facendo? che stai facendo? che stai facendo? come? come stai facendo va? e che stai facendo mi ritrovo, sull'ents no, sull'entristo ripresa La preghiera del mattino, ancora di Don Ceremia. Questa c'è la preghiera del mattino. Tu la fai la preghiera? Come la faccio? La fai o la preghiera? La fai la preghiera? E che preghiera fai? No, perché? E' a me? E' un dato senza fibra, così diamo lì. Allora che fai? Giù la lottrina nelle criatose. Io l'alutrina nelle criatose. Quando eri criatose... Quando eri criatose? Tutti i cosi li dite? Quando eri criatose? Quando eri bimba? Quando era creatore? Oh, come becca! Quando era creatore? Quando era creatore? Quando era creatore? E' la dottrina. Come si chiama? Te giri? La dottrina era la cosa si chiama. La dottrina. E' di sua. La dottrina, la dottrina. La dottrina, è così. Dottrina! Dottrina, la dottrina. Dottrina! Dottrina, dottrina. E' incredibile. Non dite che la dottrina. Dottrina. E' la dottrina. E chi ti fa campagnoni, gli faccio i campagni. Tutti i campagnoni. Perché non ti dico campagnoni? E' solo così. Si non imparava ad essere campagnoni. Campagnoni. I campagni. I campagni. I campagni. E tutti i campagni. I campagni. I campagni. I campagni. E' solo lì. Alutrini. Mi fiore. Che tu non porta la giu toi? Stai volando di noi e mai? II. Alutrini. La dottrina è la dottrina, ma proprio campagnola proprio, diceva che parola hai detto di campagnola, no? Dottrina. Fa sentire che parola hai detto di campagnola? Dottrina. No, mi fa sentire che parola di campagnola, che si vinta le campagne. Dicendo. Dottrina. 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 Ma che parola di campagnola? Dottrina. Dottrina. Pepa, a parte di come chiamare? A parte di come chiamare? Pepa? Pepa? No. Pepa? 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 Lì è campagnola, Pepa? No, papà, Pepa? 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 E' ancora morto da così, Peppa. E scavavano i padroni. E buttavano i padroni ancora. E' stato solo 300 anni fa. Peppa, quando ti hai sposato? Anno? Ha dato il matrimonio? Quanti è? Boh! Hai visto? Non ti ricordo quando si è sposato. Non ti ricordo quando hai dato il matrimonio. Non ti ricordo quando hai dato il matrimonio. Non ti ricordo quando hai sposato? Non ti ricordo quando hai dato il matrimonio. Ti ricordo di che mese? A che parte? A parte la saletta. Tu hai scusato? No, 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 la saletta. Ah, è proprio un'ambriaca. No, mi ha scusato il mio figlio. Ehi, ma a dove? Ha chiesto... Ha chiesto la cera, non so neanche. Ha chiesto il matrimonio? Non, non sai manca qual è qui. Non sai manca a data. Qual è il mese? Il mese ti ricordo? Quanto vai? Il mese ti ricordo? Ma ti ricordo che il mese ti è scusato? Come? Ma che mese? Il mese agosto. Il mese agosto? Il mese è abril. Qual è il mese agosto? Se lo vanno per quello per Santa. A data? Il mese agosto. 1966? 56. Un giorno? Ma neanche questo ricordazione? Era rumenica. Ah, no, Coke era rumenica. Grazie. Che giorni era? Che dacci? Non ti ricordo di più, manco io, il 30 aprile, se non mi ricordasse, non sapevo manca che io ne dava scusato. Ti manco scusato, non, 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 non so quando scusatestati. Non so quando scusatestati. Ti parlava di una scusat, veniva a Roma. Questo ti ricordo, però. Questo a Roma, questo ti ricordo. perché ci ha divertito di venire a Roma. Io avevo un po' a giostra, avevo un po' a giostra, e mi guardavo mia moglie. Allora avevo un po' a giostra a fare un po' a giostra. Ma Michele si chiamava. Michele chi è? Il marito? Tu non hai capito? No, Michele ero il marito della signora, ero cugina. E il marito come si chiamava? Ottai. Giovanni Ottai. Giovanni di Gennaro. Si chiamava Ottai, si chiamava Giovanni. E ora rostò? Ma rostò, è Giovanni. Marito, te la rostò? Questo si mette la mia capienza. Quanto anni? Quanto anni passate ora? Ho spettito negli 53 anni. All'anno 60... Quanto anni ha detto? All'anno 60? All'anno 60. All'anno 60. All'anno 60. All'anno 60. All'anno 60? All'anno 60? All'anno 60, sono 29 anni. All'anno 30. Tutto i 30 anni. Non mi chiamava. Chi è sposato? No, che è sposato? Non mi chiamava marito, ti sei. Non mi chiamava marito. 30 anni l'ha visto. Sì, 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 sì. quanto fa? 63, 73. Agli 81 fossero 30 anni. Ne arrivo io a 9 vicino, sono 28 anni. Però non mi trovo. Allora teniva 53 anni, che sono 29. Forse teniva 50 anni. No, 53. Eh, boh. Ho donato 40, io ero 90 anni, io ero 90 anni. Ho 40, io ero 1000. No, ho 40 anni. Eh, boh, tu mi fai una cosa. 50 anni. Teniva mai, non tu gli sbagli. Perché hai 50 anni? 50 anni. C'era il giorno io. Teniva 50 anni, no, 53. Così meglio. Eh, ziricchio peccirile di me, ma ho. Perché io ho 53 e tu non teniva 50 anni, quando è molto male. Quindi 9 anni, mamma, ti ricorda, è 52, no, 53. E sempre teniva 50 anni. Ah. Eh, perché teniva 50 anni di differenza. Eh, che teniva 63 anni. Questo teniva... Lui ci aveva 63 anni e tu non teniva 50. Ah. Ah. 50 anni di differenza. Ti ha piastato un bicchiardone, per favore. 50 anni di chiudo un bicchiardone, ci notte. Ah, io guardo che sapai perché c'è un bicchiardone. Ah, io, non ha cominciato, sapevo, 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 non sapevo. Ah, la matematica non era, sapevo, non sapevo. Non so che ricada la visione, eh. Non ci fai studiato, perché se c'è arrivata la voce, ha detto che va a buonare. Io, va a buonare. No.